Bene, bene. Luca Papaezzi invece, tornando a Pellini, i vostri obiettivi in questo immediato futuro? Beh, ovviamente crescere, diffondere il verbo più possibile, i prodotti di qualità, la comunicazione appunto come dicevamo è importantissima perché chi non ha qualità non ha niente da comunicare, chi ha qualità di solito non ha tempo abbastanza per parlare, non ha pagine abbastanza su cui scrivere. Noi vogliamo rendere questo prodotto identificato nel mondo intero direttamente con il nostro brand, come hanno fatto già le più grandi scoperte dell'uomo fino adesso.